Basoski! Ferma l'autobus! Sei impazzito? Mike, nessuno spaventatore è capace di fare quello che hai fatto tu. So che tutti quelli che ci vedono insieme pensano che sia io la star, ma la verità è che io ho sfruttato le tue capacità sin dal primo giorno. Tu hai concluso l'accordo contro Icamarmo, tu hai trasformato dei ragazzi senza speranza in campioni, io ho solo catturato un porcellino! Tecnicamente l'ho catturato io. Esatto! E pensi di essere solo uno qualunque? Tu hai realizzato il più grande spavento che si sia mai visto! Non sono stato io! Sei stato tu! Credi che ci sarei riuscito senza di te? Io non mi sono portato neanche una matita alla prima lezione. Mike, tu non fai paura. Neanche un po'. Ma non hai paura di niente. No. 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 Grazie a tutti.